Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al sottotono e tornate a questo mio nuovo video, forse probabilmente l'ultimo video di questa serie facendo figurine, album, panini, della U16 2018, U16, facendo figurine, come renderò l'U16, mi mancheranno o quelle che mi mancheranno a questo spartamento che si registrava appena dopo quello che ho detto ieri, per dire ormai siamo quasi giunti alla fine di questa serie l'ultimo video sarà sicuramente dove vi farò vedere l'album completo di un tot, le 682 figurine, più 12 figurine che non sarò, penso, come sviluppare speciali, tutti che si trovano nelle bottiglie coca cola, sono 12 figurine che non c'è, mi mancano solo due lì, quindi ragazzi, un bel mi piace e andiamo col video il primo pacchetto, Fessino, c'è già Westegar, c'è già Shaqiri, lo abbiamo trovato, lo stiamo della Tunisia, Rossevacico, e quindi Yanda, Fabian Schaeck, c'è già Paulinho, Riccardo Rodríguez e Thomas Miller Ci strande Boirmčio c'è già E questa è la mia spiegazione 8 poi la torta la ugi la Pivaric, Rodriguez, Pepe e Pol Potpacchi non mi manca questo qua è Muhamidi, forse mi pare di manca e invece anche io ce l'ho, Forsberg, Meunier e Timbolo che ho già Andrzej Gómez che ci dà, Nani Vallevecero, Borges la scuola della Polonia è Landerrack Joao Marek, già la scuola della Nigeria ha le uoji, Capri Czesos e Rakic, ho già tenuto un pacchetto ragazzi Fabianski, Alfredson, marchiato, Taremi e Teris ultimo pacchetto di questa serie che carica che mi manca Ciao Lali da Siamo Lali, sentite, ciao e impegno e ragazzi, veramente questa ultima di questa serie ultimo ricordo, veramente l'ultimo di questo è l'album completo di 394 figurine dell'album, vi farò vedere pagina per pagina, figurina per figurina e quindi ragazzi un bel piaccio per questa serie che ormai siamo ancora dipende se arrivo se mancano ancora più di 60 però il minimo è 60 cioè il massimo è 60 per comandare figurine quindi ragazzi iscriviti al canale un bel mi piace per una serie che non so se non so se mancherà un bel piaccio se fico in panini, dicono se si possa non credo iscriviti al canale e adesso una buona giornata vai per intenzione tutto Ciao